Ciao amici e amiche del segno solare o lunare della bilancia, benvenuti su Exoteric Word, io sono Angela e questo è l'oroscopo motivazionale lunare ovviamente dal periodo del 12 al 25 gennaio. Ovviamente andremo a vedere le energie che ci accompagneranno in tutta la fase di luna crescente verso la luna piena, la prima luna piena di quest'anno che sarà in Leone. Prima di iniziare vi ricordo che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente, ma soprattutto con il vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi che utilizzo nella lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link per contattarmi, per prenotare un consulto e chiedermi delle informazioni. Inoltre vi ricordo che negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e settimanale. Adesso siamo pronti per iniziare la vostra stesa, possiamo accendere la luna e ovviamente come mi volta ricordo lo scopo di questa stesura, cioè che aiuta a capire meglio che cosa sta accadendo nella nostra vita, trovare quei suggerimenti e incoraggiamento anche per superare momenti difficili, però soprattutto trovare quelle indicazioni per favorire la manifestazione nella realtà dei desideri e degli obiettivi. Ovviamente quando si parla di fase crescente verso la luna piena parliamo di stabilire delle intenzioni, di iniziare dei progetti e dei propositi, anche e soprattutto proprio di mettersi in moto e agire, sia per raggiungere dei traguardi, sia per impegnarsi a raggiungerli. E di ragionare un po' a lungo termine, quindi cercare di acquisire quella energia e motivazione per impegnarci ancora di più. E bisogna farlo proprio in questo periodo. Andiamo a vedere adesso come prima carta abbiamo l'osservatore delle stelle. Partiamo con qualcosa di particolare, perché in pratica questa carta mi vuole dire che nell'arco di questo periodo potete fare molta attenzione ai vostri pensieri e concentrarvi principalmente sulle vostre aspirazioni, sulle vostre ambizioni, di alimentarle sempre di più, di visualizzare e concentrarvi sui vostri obiettivi. Se c'è qualcosa di negativo, soprattutto magari uno schema negativo dentro di voi, che come atteggiamento, che come situazione, tende poi a crearsi a livello esterno, questo è appunto il momento per cercare di lavorarci su e sostituirlo, facendo tanti piccoli passi in avanti per far sì che voi possiate aprirvi e offrire effettivamente al mondo non solo quello che siete e anche però di accogliere quello che meritate. Una cosa molto importante è che, come vi dicevo, di fare attenzione ai vostri pensieri. Purtroppo può sembrare una cosa brutta da dire, però è così, soprattutto per chi crede nelle energie. Se noi tendiamo a pensare a cose negative, a concentrarci troppo su quello che non riusciamo a fare, su ciò che non va bene, purtroppo continuiamo ad attrarre quel tipo di energia. Invece cambiare il nostro modo di pensare, rimanere appunto concentrati su ciò che desideriamo e su tutte le energie di accoglienza e di positività, all'ora e anche di ottimismo, non guasta mai, vi aiuterà a favorire appunto questo cammino, questo percorso. Abbiamo un'altra carta per voi che parla del volo notturno. Questa effettivamente vi può parlare di un'energia che può stare intorno a voi e che quindi sotto forma di qualche evento o una persona per il suo modo di comportarsi nei vostri confronti, che potrebbe in qualche modo destabilizzarvi. In pratica è una specie di suggerimento di non fidarsi pienamente e di stare abbastanza in guardia, come vi dicevo, soprattutto nei confronti di qualcuno o anche in genere comunque di una situazione, di monitorarla, di osservarla e di fare anche attenzione a ciò che sta per entrare nella vostra vita o anche a chi sta per entrare nella vostra vita. Non dovete assolutamente credere a idee clamorose, proposte e promesse clamorose perché si cela qualcosa che potrebbe essere non giusto per voi. Quindi attenzione alle apparenze e alle false promesse. Tutto ciò che vi sembrerà tanto bello e eclatante, pensate e valutate attentamente la fonte, da che pulpito arriva la proposta e l'idea o la promessa e anche la situazione in genere, mi raccomando, di tenerla monitorata. Abbiamo per voi l'epre della luna. Effettivamente quest'altra carta indica un'area di rinnovamento, di rinascita. La rinascita è assolutamente possibile in questo periodo, forse vi sentirete particolarmente creativi, fertili di idee, di progetti, però dovete fare un po' di attenzione perché le energie sono molto forti e ci possono essere degli improvvisi cambi di programma. Quindi dovete farvi trovare pronti, prepararvi a seguire un po' la corrente, magari sfruttare, è vero, la vostra creatività, la vostra sensibilità, questo desiderio di portare avanti le vostre idee, i vostri progetti, però di capire effettivamente come portarli avanti. L'entusiasmo, l'ottimismo è necessario, questo sì, e si andranno a creare anche delle occasioni vantaggiose, però preoccupatevi principalmente di favorire appunto il rinnovamento e la rinascita, però seguendo un po' il flusso e cercando anche di costruirvi dei piani di riserva. Adesso vediamo quali altre informazioni saltano fuori dall'oracolo, risponde, a volte vanno a intensificare quello che è già uscito, oppure possono appunto darvi altre indicazioni. Come prima carta dell'oracolo risponde troviamo casa, dolce, casa. È una carta di sicurezza, del sentirsi a proprio agio, di star bene con se stessi. Se non ci sono questi presupposti, allora si deve lavorare per far sì che voi siate bene con voi stessi, rafforzarvi cercando dei luoghi o anche vedere, frequentare delle persone che effettivamente vanno ad incentivare il benessere, e invece non al contrario, meglio lasciare andare tutto ciò che non va bene e che magari vi crea anche disagio e agitazione. Cercate anche un luogo dove sia riposare, sia prendervi dello spazio tutto vostro, e anche per creare, creare in senso lato la vostra realtà, i vostri desideri, le vostre idee, proprio per farli accrescere e trovare ancora maggior motivazione. Quindi accettate ciò che avete davanti, ciò che avete a disposizione, privilegiate, i rapporti sicuri, sereni, tutto ciò che vi crea conflitto, effettivamente in questo periodo si deve lavorare per cercarlo di mettere da parte, perché ci sono tante belle cose che si stanno preparando per voi, quindi meglio preparare quel terreno per accogliere le novità e le cose positive. Andiamo avanti adesso a vedere, a proposito, la carta immaginare, quindi a proposito di andare ad accogliere cose positive e di concentrarsi appunto sugli obiettivi, come abbiamo già visto, si parla di visualizzazione e trasformazione del proprio pensiero. Il fatto di concentrarvi, come abbiamo detto, sul vostro pensiero positivo, vi aiuterà a realizzare, a manifestare nella realtà, magari anche immediatamente, se no pian pianino, pian pianino, dei progetti a lunga durata. Riuscirete a trovare quelle idee che vi aiuteranno assolutamente, quindi immaginate, immaginate cose belle, immaginate cose positive e sicuramente riuscirete a farle entrare nella vostra vita. Capire come creare il benessere è molto importante e, come vi dicevo, di fare attenzione al vostro pensiero perché quello che penserete attirerete. Andiamo a vedere l'altra, l'ultima carta per voi, un'energia in. Ci sta effettivamente... ...un'energia femminile di accoglienza e di osservare, di studiare, di valutare per bene le proprie azioni, soprattutto di osservare le azioni degli altri per far sì che, appunto, voi possiate capire e intercettare dove c'è il trucco e dove c'è solo apparenza e, appunto, soprattutto dove c'è l'inganno. Però aspettate, in qualsiasi caso dovete aspettare per fare la vostra mossa, aspettare la prima mossa al Tui. E poi, come vi dicevo, effettivamente è un ottimo periodo per raccogliere informazioni, per concedersi un momento di tranquillità, di conoscenza, di consapevolezza, di accettare pienamente voi, i vostri desideri e la vostra coscienza e seguire, appunto, in base alla vostra anima, alla vostra coscienza, come vi dice effettivamente di comportarvi. Si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra, trovate il logo per iscriversi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, ciao! Grazie!